Assessore, allora è ufficiale, ci sarà questa controoffensiva contro le motociclette a Napoli? L'ordinanza è stata approvata ieri per tutti coloro, cioè i motocelisti che passano sui marciapiedi con le strade riservate, si prendono una sanzione di 250 euro, nei casi più gravi cioè quando ripetono il tutto, e allora la sanzione può arrivare fino a 400 euro e per di più si può avere il sequestro e la confisca del motoveicolo. Ci saranno anche i vigili a controllare però? Senz'altro perché i vigili che stanno nella zona e cioè che controllano quella strada possono controllare anche il marciapiede, noi stiamo avendo tantissime proteste da parte di persone anziane, di non abili eccetera, i quali si sentono circondati alle spalle, di lato eccetera, da motorini che sfrecciano e quindi non hanno più tranquillità. D'altra parte quest'ordinanza è stata messa sulla base della legge sulla sicurezza. Il codice della strada non ha pensato che si potesse andare sul marciapiede e quindi controlla quelli che passano sulle carreggiate oppure che fanno sosta abusiva e invece non ci ha pensato perché non pensava che fossero così furbi da passare addirittura sui marciapiedi. Grazie. 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 Grazie.